Piadine all'olio di oliva, 500 g di farina, un cucchiaino di bicarbonato, 250 ml di acqua, 80 ml di olio e un cucchiaio di sale. La ricetta è fatta in casa da Benedetta. Dopo aver messo l'acqua, l'olio, il sale e il bicarbonato, aggiungo pian piano la farina setacciata e creo un panetto morbido, da cui il caverò 5 palline. Impassiamo fino a creare un panetto morbido e omogeneo. 5 palline da 170 g circa l'una. Adesso spendiamo una pallina per volta e mettiamo a spandare la padella, che dovrà essere provente. Ecco qua, stiamo attenti e controlliamo di tanto in tanto che la nostra piadina sia ben dorata. Premolato pronto. Prima piadina pronta. C'è un profumo veramente buono. Eccole qua, sono pronte. E ora Le chiudiamo.